Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Gianmi94 e benvenuti in questo nuovo video Ciao Franci Ciao Rex Raga ho finito Paranormal, non tutto eh Però diciamo la prima puntata è il trailer E se non ci credete guardate, eccolo qua Ecco qua, Paranormal Spero che riusciate a vedere E raga, l'unico problema è che non me lo fa caricare Non so perché Perché dato che, ah e anzi, anzi, ho capito il perché Perché questo computer fa schifo Quindi appena mi arriva il computer fisso Dovrebbe arrivare proprio a giorni Proprio Ciao Fran Quindi appena arriverà Trasferirò tutti i video là sopra Compreso quello di Paranormal Non vi preoccupate, i video li farò sempre E... Solo col telefono Abbiate pietà Pietà, abbiate pietà E... Vabbè, solo questo vi volevo dire Che l'ho fatto il video Quindi lo devo solo caricare Beh, mi raccomando Iscrivetevi e commentate E noi ci rivediamo Oggi Con un video sclero Ma va, sì Un video sclero Bella ragazzi Ciao 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 Ciao